Sono qui con Neri Parenti, regista famosissima, ha fatto più di 50 film, 20 dei cosiddetti cine panettoni e 7 dei 10 film di fantossi dell'attore Paolo Villaggio. Signor Parenti, secondo lei è giusto che al giorno d'oggi i film vengono ricordati principalmente per gli attori e no per i registi che comunque hanno un ruolo importante nella riuscita di un film? Sì, io sono d'accordo anche perché credo che bisogna parlare, ci sono registi e registi, quindi c'è tutta una serie di registi, Kurosawa, Altman, Truffaut, Altman e tanti altri, Kubrick, tanti altri che vengono in mente che sono sicuramente, sono ricordati molto di più delle cose che fanno. Chi fa invece un genere come il mio, brillante, comico, giustamente è più valorizzato e ricordato l'attore anche perché è molto più importante del regista, perché se l'attore comico non fa ridere, il film viene male naturalmente, se il regista sbaglia uno o due inquadrature non succede niente. Quando è nato il termine cine panettoni veniva usato un po' per, possiamo dire, offendere il film. Quando definivano un suo film cine panettoni, lei come la prendeva? Ma intanto il soprannome che avevano così è stato inventato prima che io cominciassi a farlo, che io ho cominciato dal 1985, prima li faceva Carlo Vanzina. Ma io non l'ho mai vista, ma credo che anche non sia, poi dopo informandomi, non credo sia nato come dispregiativo, come termine dispregiativo, credo sia nato come un film in cui dentro c'erano tante cose, come del panettone, per cui c'erano i canditi, per cui c'erano lo zucchero, per cui c'era e i film rispondevano un pochino a questa caratteristica perché nel film si tendeva a mettere attori di tutte le regioni, delle donne, belle donne, cioè si faceva un mucchio, una mucchiata si chiamava anche. Nel 2020 gli ha scritto un libro, Sintelo a due palle di Natale, dove svelava un po' retroscena, gli aneddoti dei cine panettoni. Saprebbe scegliere un cine panettoni che gli è rimasto dentro per l'esperienza, per il posto dove l'ha girato? Beh, per il posto sicuramente l'India, perché l'India è un paese incredibile, non c'è un altro paese uguale, per tutto, adesso la facciamo lunga. Come è girare in India? Eh, girare in India è complicato e semplice, è complicato perché le distanze per esempio sono molto importanti, il clima è fastidioso, ci sono le animazioni, insomma, è facile perché siccome c'è una cinematografia abbastanza importante in India, fanno moltissimi film a Bollywood, per cui invece c'è dei tecnici che sono bravissimi e quindi si trova bene. Perfetto, grazie.